Buongiorno a tutti, io mi presento, sono Michael Brioski e nel 2008 ho aperto la mia attività Light It Up and Events, attività di organizzazione eventi per strutture turistiche, attività commerciali ed eventi privati. Stop! Questo era quello che dicevo fino a poco tempo fa per presentarmi. Cosa è successo poi? Ho intrapreso un percorso di brand identity con Concetta Demma, che è una professionista del settore che ho avuto il piacere di conoscere. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo innanzitutto lavorato su me stesso, quindi sui limiti, le paure, ma non solo, anche la comunicazione. Io ho capito, ad esempio, che ciò che comunicavo non arrivava, pur avendo tutte le buone intenzioni di questo mondo, il cliente finale non percepiva quello che volevo esprimergli. E poi non solo, abbiamo lavorato anche sulla mia attività, quindi i risultati che effettivamente io posso portare ad un cliente, ma non solo, anche come comunicarlo, appunto. e poi i valori, i plus. Ecco, che fino a poco tempo fa magari non ci davo neanche più di tanto peso, e invece ho capito di essere veramente il valore aggiunto e quantificarli, dargli un effettivo valore. Io posso dire solo questo, come testimonianza di questo percorso. tramite questo percorso, che mi sento di consigliare a tutti quelli che come me si trovano ogni giorno a dover vendere le proprie abilità, quindi vendere se stessi anziché dei beni materiali. Tramite questo percorso, come dicevo, sono arrivato a vedere nero su bianco ciò che sono, ciò che posso offrire e, come dicevo appunto, quanto poter dare valore a me stesso. E vi posso anche dire che vedere tutto questo che si realizza sotto i propri occhi fa acquistare fiducia in se stessi, ma soprattutto sicurezza. L'insicurezza è un altro, è un altro, tuttora, dei miei limiti che sto combattendo e poi soprattutto dà veramente una carica e una voglia di mettersi ancora di più in gioco. Per fare ciò, naturalmente, bisogna anche essere pronti a mettersi in discussione, a rivedere tutto quello che si è pensato fino ad oggi e proprio posso assicurare che i benefici non trederanno. Concetta tramite il suo metodo e la sua pazienza, la sua disponibilità, porta te stesso a capire il tuo valore. Come le dico sempre io, quando capita nelle lezioni, ti fa tirare fuori il tuo potenziale inespresso. Sembrano tante parole, discorsi, campati lì, ma vi posso assicurare che è così. Infatti, ora, tramite questo percorso, io posso affermare di essere un local expert experience, ovvero la figura che aiuta strutture turistiche da una parte e realtà locali a creare eventi esperienziali, che quindi da una parte le aiutano a valorizzarsi e a sviluppare tematiche di interesse, dall'altra invece si aiutano le strutture turistiche ad aumentare prenotazione, fatturati, fidelizzare la clientela e dare un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza. Ringrazio veramente Concetta per questo e anche per avermi dato la possibilità di essere qua oggi come sua testimonia. Quindi, in conclusione, fidatevi, i benefici, ripeto, non tarderanno e questo posso concludere dicendo che si sposa anche bene un po' col payoff della mia attività, che lasciate che accada. Quindi, veramente, anche in questo caso, come dico sempre, make a wish, close your eyes and let it happen. E grazie Concetta. Grazie. Grazie.